Una sfida di pesca da un milione di dollari, dove? Nel Norden Territory in Australia, una straordinaria destinazione per la pesca. A ottobre saranno liberati nei fiumi vicino a Darwin, 76 barramundi con speciali contrassegni. Uno di questi vi permetterà di vincere un milione di dollari. È Million Dollar Fish, la sfida aperta ai pescatori di tutto il mondo, dal 1 ottobre 2015 al 29 febbraio 2016.